E' stato le zingri sono stati Bella a tutti Bella a tutti ragazzi io sono già benvenuti in questo nuovo video Siamo su Siamo su ZINGRI Siamo su The Escapist un gioco Bello Allora iniziamo Vabbè Ho capito ci sono le stanze Noi seguiamo la Bombagia Nel tipo se lo fanno loro lo faccio anch'io In quale prigione c'è una piscina Cioè cos'è la prigione di Gesù Distruggi il muro Distruggi il muro Bastardo Eh Lo so come mi stai guardando Quello sguardo non mi piace Mi è appena venuto un brivido non so per quale motivo Eh Passa 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 e non saluta Ma che cazzo passi a fare Ma ho sparato con un cecchino E io mi devo agitare un pochino E questo qui che è Dovevamo andarlo al tipo Deluxe toilet Madonna sti qua usano la carta rosa Aspetta 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 Dan 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 Ronaldo toti Allora nel toilet direi di metterci queste cose per ora Perché No 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 Ma se Ok No La spatola Ma stai attento che ho la spatola Attentissi Non c'è uno che abbia un poster Come fate a non avere un poster Disagiati Anche tu Malato Gingali Eh Motivo Motivazione Io non sento bene Metto l'orecchietta Non sento più un cazzo E allora anche questa È una cazzata amici Io sono Hacab Vado di qui Zingari ciao Sono japonese